Eccoci ragazzi e bentornati sul mio canale video domenicale con approfondimenti tech perché nell'ultime ore, negli ultimi giorni si è parlato tanto dei nuovi iPhone 16 l'avevo detto che sarei tornato con un video con nuove informazioni trovate nei video precedenti tutto quello che dovete sapere sull'iPad Pro e addirittura anche i primi rumors sulla nuova lineup 2026 dell'iPad Air quindi supportate il video lasciando subito un bel mi piace come sempre prima di iniziare vi ricordo di supportarmi tramite il canale Enebba quando dovete comprare un videogioco nuovo, un videogioco del passato, una gift card, un abbonamento per le vostre console trovate tutti i link in descrizione come troverete in descrizione tutti i link del mio canale di Telegram per le offerte giornaliere tech mi raccomando iscrivetevi ma anche quando dovete comprare una qualsiasi altra cosa passate dai link aggiungete il prodotto nel carello e anche in quel modo ragazzi mi supporterete con l'affiliazione ma partiamo con la prima informazione importantissima su quello che sarà a quanto pare il nuovo iPhone 16 ne ha parlato niente che popò di meno l'analista Ming C. Cuo che appunto nella sua ultima indagine di approvvigionamento appunto sul mondo Apple ha parlato della questione iPhone 16, iPhone 16 Pro Max che a quanto pare dovrebbe avere una batteria con una maggiore durata e probabilmente stessa grandezza con maggiore durata o addirittura più piccola con la sua stessa durata quindi veramente molto importante questa cosa la mia ultima indagine ha dichiarato proprio l'analista sulla catena di approvvigionamento sottolinea che la densità energetica del nucleo della batteria dei iPhone 16 Pro Max sarà aumentata il vantaggio è che ha una maggiore resistenza sotto lo stesso volume della batteria oppure ridurre il volume della batteria con la stessa durata migliorare la densità energetica della cella della batteria aumenterà la temperatura di batteria durante il funzionamento per evitare il surriscaldamento della batteria Apple adotterrà per la prima volta una custodia della batteria in acciaio inossidabile come schema di dissipazione del calore sebbene l'effetto di dissipazione del calore dell'acciaio inossidabile non sia buono come quello dell'alluminio è relativamente forte e non facile da corrodere la custodia della batteria in acciaio inossidabile fornirà una migliore protezione per le batterie dei sistemi iPhone quindi molto interessante questo approfondimento relativamente a questa questione inoltre ha parlato anche di coloro che dovrebbero appunto fornire queste custodie di batteria in acciaio inossidabile l'Axway Communication che a quanto pare quest'ordine contribuirà a meno del 5% delle entrate dell'azienda nel 2024 e quindi dato che Apple dovrà aumentare il suo processo di produzione il margine per l'azienda diventerà molto più grosso durante questo 2024 si parla di profitti che nel 2025 dovrebbero arrivare addirittura al 200-250% ovviamente iPhone 16 che appunto come è previsto per la sua line up a fine del 2024 quindi settembre 2024 uscirà la nuova line up la seconda importante informazione sull'iPhone 16 di cui si è parlato in questi giorni è la grandezza infatti si parla di un display più grande ne ha parlato Zone of Tech dicendo che il display dell'iPhone 16 Pro Max aumenterà da 6,7 a 6,9 e l'iPhone 16 diciamo più piccolino dai 6,1 ai 6,3 ovviamente si è messa a paragone questo presunto iPhone 16 Pro Max con appunto dei modelli test che vengono utilizzati per determinate analisi e quant'altro ovviamente non sono immagini ancora ufficiali ma sono dei modelli prodotti proprio in merito a queste informazioni per analisi e molte volte anche per studi di mercato e questo ragazzi è proprio quello che dovrebbe essere la resa tra i due modelli a sinistra il 16 Pro Max a destra l'iPhone 15 Pro Max come potete vedere quello 0,2 inciderà molto si parla negli ultimi giorni addirittura del fatto che Apple starebbe anche lavorando sulla questione delle cornici quindi anche se aumenteremo la grandezza del display dai 6,7 ai 6,9 con le cornici più piccole il display sembrerà ancora più grande quindi molto importante questa informazione che è trapelata negli ultimi giorni per concludere ne ha parlato invece Ross Young negli ultimi giorni mi sembra proprio nelle ultime ore lanciando appunto un post pubblico o meglio pubblico non tanto pubblico ma destinato ai suoi abbonati su X dichiarando che la produzione dei display per quanto riguarda la line-up dell'iPhone 16 e l'iPhone 16 Pro Max sarebbe programmata per giugno quindi probabilmente nei primi 10 giorni di giugno ne sapremo di più vi ricordo 10 giorni importantissime per chi ci sarà la WWDC dove a quanto pare sarà presentata l'intelligenza artificiale made in Apple ma ovviamente vi darò maggiori informazioni sono molto attento su questa questione mi incuriosisce e non poco soprattutto per il fatto che dovremo vedere anche nel corso dell'anno gli sviluppi del sistema operativo con l'iPhone e quindi iOS 18 il nuovo Mac OS e via dicendo questo è quello che vi volevo dire e fare come recappone dell'ultima informazione ma avviso più interessanti come rumors e leaks sulla nuova linea di produzione di iPhone 16 attesa per settembre 2024 fatemi sapere qui sotto nei commenti come sempre che cosa ne pensate un bel mi piace iscrivetevi per non perdere tutte le ultime notizie e noi ci vediamo ad un prossimo videotech grazie a tutti